Ciao ragazzi, per una volta parlo, e parlo per raccontarvi la storia della mia cannetta preferita da spinning, ce l'ho da più di 30 anni, però non siamo sempre andati d'accordo con come lo stiamo facendo adesso, ultimamente, per tanti anni non mi piaceva, mi sono lasciato a tentare da ragazzo vedendola in un negozio, mi sono lasciato a tentare dalla marca, soprattutto dalla modernità che allora aveva, perché aveva un'impugnatura splittata, una delle prime canne con l'impugnatura splittata, anelli avveniristici, tutto bello da vedere, e quindi con qualche sacrificio me la sono presa e portata a casa. Quasi subito mi sono reso conto che l'impugnatura splittata era tanto bella da vedere quanto scomoda per me per pescarci, perché il porta-mulinello a vita non mi permette tuttora di posizionare il mulinello dove preferisco. Per me è invece molto importante poter spostare il mulinello avanti e indietro a seconda della giornata, del tipo di pesca che faccio, della situazione che affronto. E quindi quasi subito ho sostituito l'impugnatura originale con una tipo questa qua, con sughero e porta-mulinelli ad anello scorrevole. Anche con l'impugnatura la canna non andava come piaceva a me. Ho modificato nel corso del tempo, ho modificato gli anelli, però continuava a non soddisfarmi. Troppo rigida, non riuscivo a far vivere le esche come piace a me. E quindi nel corso degli anni questa canna qui è diventata la canna di scorta, la canna che tenevo nel bagagliaio, se serviva, se succedeva qualcosa di strano la tiravo fuori, ma praticamente non ricordo mai che sia successo. Quello che invece è successo è che una volta, non chiedetemi come, è finita chiusa nello sportello del bagagliaio e la canna si è rotta, si è rotta qui e tra un po' vi faccio vedere la rottura. Questo è il punto dove la canna si era rotta ed è stata riparata. In questo caso ho usato un innesto interno, uno spigot praticamente, in questo caso qua è cambiato e da questo punto in avanti il materiale è diverso, un pochettino più morbido ed è quello che mi ha fatto svoltare la canna. Adesso la rimettiamo in sesto. Avevo più di una possibilità, potevo prendere e buttare via la canna, potevo cercare di ripararla e riportarla all'azione originale, ma non mi piaceva. e allora a quel punto che non mi costava nulla ho optato per modificare il pezzo centrale con un materiale un pochettino più morbido e poi mettere una cima riportata in solid tip per dargli per vedere cosa succedeva. Bingo! La canna è diventata quella che si vede in decine se non forse un centinaio di video. Mi ha dato tantissime soddisfazioni tanto che poi nel corso degli anni gli ho costruito punte supplementari per avere sulla stesso calcio due potenze diverse e poi in seguito recentemente gli ho costruito anche un calcio diverso più corto per poterlo usare non soltanto a 2,70 ma anche a 2,30 m all'incirca perché poi dipende dalla lunghezza delle cime che inserisco sopra. Quindi quando vi capita una disgrazia prendetela come un punto di partenza. ragionateci sopra le canne si possono sempre sempre aggiustare e a volte come in questo caso si possono anche migliorare. Ciao ragazzi! ragionateci sopra le canne! ragionateci sopra!